Erich Maria Remark Niente di nuovo sul fronte occidentale 1929 Mi alzo, sono contento. Vengano i mesi e gli anni, non mi prenderanno più nulla. Ma io, sono tanto solo, tanto privo di speranza che posso guardare dinnanzi a me senza timore. La vita che mi ha portato attraverso questi anni è ancora nelle mie mani e nei miei occhi. Se io abbia saputo dominarla, non so. Ma finché dura, essa si cercherà la sua strada. Vi consenta o non vi consenta quell'essere che nel mio interno dice io? Egli cadde nell'ottobre 1918 in una giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte che il bollettino del Comando Supremo si limitava a queste parole Niente di nuovo sul fronte occidentale Era caduto con la testa avanti e giaceva sulla terra come se dormisse quando lo voltarono si vide che non doveva aver sofferto a lungo il suo volto aveva un'espressione così serena quasi che fosse contento di finire così